Buonasera Flavio Briatore, lei ha fondato questo movimento del fare con lo scopo di dare un contributo al paese, ci può dire di più? Il movimento del fare nasce con uno scopo, fare, io sono un founder di questo movimento del fare, che assolutamente non è un partito, non è una formazione politica, non è una associazione mafiosa, ci mancherebbe, scusi, oggi infatti la camera di commercio, noi siamo registrati, la camera di commercio è registrato come un ambulatorio veterinario, questo movimento ho voluto solo gente che è capace di fare, cosa tu sai fare, c'è la voglia del fare, se tu chiedi a noi ci vuoi pensare qualcosa, noi ti diciamo no, vogliamo solo fare, Noi sappiamo solo fare, a differenza delle cose che non sa fare, è una questione che devi fare le cose che sai fare e non fare le cose che non sai fare. Abbiamo capito, si chiama movimento del fare, però com'è organizzato esattamente il lavoro del movimento? C'è un dream team, che al suo interno ha degli altri dream team, che è la region why di questi dream team, è fatta a piramide del dream team, ma soprattutto è il fare. Io credo, sai una cosa, sai una cosa, fare quello che la politica non è più capace di fare. Ho capito, perfetto. Il fare. Sì, ma fare cosa? Fare cosa? Il fare. Nello specifico però, cosa fanno i dream team? Il dream team produce soprattutto idee del fare per turismo, economia, montanica, modellismo, tutto per far ripartire l'Italia del fare. Ci faccio un esempio, vuole che ci faccia un esempio? Sì, sì, grazie. Prendi la Sardegna, cosa ha pensato il dream team sulla Sardegna? Cosa ha pensato? Che oggi si chiede a Vandanara, come è posizionata la Sardegna a livello di destination? E bisogna chiedere a Vandanara? Lei ti risponde che è posizionata tra la striscia di Gaggia e Katmandu, scalo quando piove. Ma non è vero. E allora ecco che arriva il dream team del fare. E cosa fa però? Allunga la stagione estiva in Sardegna. Ma come si fa, scusi, non capisco. L'estate dura tutto l'anno. In Sardegna? Ma non si può. Il dream team del fare si è chiesto, a cosa serve l'inverno in Sardegna? È solo un danno, va abolito. Ma cosa vuol dire abolire l'inverno? Ogni regione, perché questa è la politica, no? Ogni regione ha il diritto di decidere in autonomia, col suo dream team del fare, quale stagione gli conviene di più per la sua economia. Se tu valli da Osta, valli da Osta, a febbraio la copri col domopac. Col domopac. Rimane al fresco d'inverno e dura fino a luglio. Ma non si può. Ma sono tutte idee del fare. Prendi le Dolomiti. Lei prese? Non lo so, sì. Le Dolomiti sono una delle meraviglie del mondo. Ma certo, ci mancherebbe. Hanno il problema che sono ferme. E sono montagne, quindi... L'idea del dream team del fare è carellarle. Ma no, ma no, ma guardi che forse... Le porti in giro per l'Italia, arrivi anche in Toscana, le puoi posizionare vicino alla casa di String. Sting, se mai Sting. Ma forse sono un po' troppe... Ma se no, io di queste idee... Eh, ma... Il Sud. Il Sud, oh. Il Sud deve diventare la Florida d'Europa. La Florida d'Europa, bello. Ma non è che... No, no, ma... Cosa servono gli alligatori? Poi ci metti una base spaziale... Eh. Come Cape Cadaveral. Canaveral, canaveral si dice. Fai partire dei raggi lunedì e porti la figa su Marte. No, stai. Grazie a tutti